Il tempo per il marketing non c'è mai. Purtroppo questa è la cruda verità, è sempre un problema di tempo, è sempre un problema per cui si procrastinano delle attività fondamentali, necessarie. Noi che lavoriamo tantissimo con le piccole e medie imprese abbiamo questa grande difficoltà. Cioè il tema è serio perché purtroppo ahimè ci sono una marea di urgenze costanti e continue, quindi se ci sono delle urgenze costanti c'è qualcosa che non va, però è un grande problema il fatto che l'imprenditore in primis ma anche alcuni dei suoi collaboratori che non siano destinati esclusivamente al ruolo del marketing, il tempo per questo povero marketing non ce l'abbiano mai. E questo è un messaggio soprattutto agli imprenditori perché io dico sempre guarda che un quarto ormai dovrebbe essere anche di più del tuo tempo dovrebbe essere destinato solo al marketing, quindi come fai il check della produzione, la gestione finanziaria della tua impresa, ricerca e sviluppo, il marketing. In realtà il marketing dovrebbe essere il primo dei tuoi interessi se sei l'imprenditore, il primo dei contesti in cui tu impieghi il tuo tempo. In realtà se guardiamo gli imprenditori delle PMI italiane sono avvolti da mille attività tutte meno che il marketing, virgola salvo casi eccezionali, virgola che confermano la regola. Punto. Quindi cerchiamo di liberare un po' di spazio, iniziamo a dedicare un po' di tempo ma ogni giorno in realtà dovresti dedicare del tempo al marketing che non è vendita e direzione commerciale. Ok? Quindi mi raccomando perché per la tua impresa c'è bisogno di questa abnegazione, c'è bisogno di questo coinvolgimento, c'è bisogno che tu ne sappia, c'è bisogno che tu sia coinvolto e che tu sia protagonista. Tanto più sarai protagonista del tuo marketing e tanto più la tua impresa andrà meglio. Quindi mi raccomando questo è uno spot alla sensibilizzazione degli imprenditori verso il marketing, dovete essere protagonisti del vostro marketing ed essere protagonisti senza tempo sufficientemente idoneo per farlo è pura utopia. Mi raccomando diamoci dentro e liberiamo spazio temporale per il marketing delle nostre imprese. Fammi sapere come la vedi. Grazie a tutti.